Arriveranno in 500 da tutto l'Abruzzo, anche da fuori regione, saranno loro gli ex allievi di quella che un tempo era l'ISEF, l'Istituto Superiore di Educazione e Fisica, che 50 anni fa, all'avvio delle sue attività formative raccolse quella che era e rimane un'importante vocazione dell'Aquila, essere cioè una città dello sport, i protagonisti della festa per i 50 anni dell'ISEF. Giovedì 20 dicembre nella sede della Facoltà Coppito, l'Università festeggia il mezzo secolo di quella che è diventata oggi Scienze Motorie, con un'intera giornata di convegni, mostre e incontri tra professori, ex allievi ma anche giovani studenti di oggi. Anche la Facoltà di Scienze Motorie ha subito le conseguenze del sisma, prima spostata all'Ex Optimus alla periferia ovest dell'Aquila, oggi finalmente nella nuova sede di Coppito. L'ISEF per l'Aquila penso sia stata una delle istituzioni più importanti, voluta fortemente dal professor Vincenzo Bonanni, insieme ai politici del tempo, agli amministratori del tempo, che si sono adoperati all'unisono per poter avere questo grande riconoscimento. Un'ISEF che ha avuto anche delle sedi staccate, quindi Caglia, Rifoggio e Cassino, quindi un'ISEF importante che compie 50 anni insieme ad altre tre sedi autorevoli, che sono Roma, Milano e Torino, quindi l'Aquila si annovera tra queste sedi più importanti e quando c'è storia c'è tanta cultura e quindi questo è secondo me fondamentale proprio per l'Ateneo e per l'immagine delle scienze motorie all'Aquila. I problemi ce ne sono tanti e diversi e quindi ognuno sa, insomma, nell'ambito sia calcistico, reggibistico, dell'atletica leggera e anche negli altri sport, insomma, siamo in una fase di assestamento, io direi anche di rilancio e dovremmo rilanciarsi. Questa è una delle occasioni che ci si presenta per fare il punto della situazione e analizzare a fondo bene la situazione dello sport aquilano e tramite questi 50 anni dell'ISAF e dell'Aquila noi ci ripromettiamo di esaminare e vedere come possiamo affrontare queste problematiche, soprattutto per i giovani e per rilanciare lo sport.